Calcio-mercato Milan, il mercato si è chiuso da poco, ma le indiscrezioni continuano a circolare. Di un possibile assalto a gennaio a Pietro Pellegri, con Eddie Salcedo sempre sullo sfondo. Entrambi sembravano destinati all'Inter, ma poi Suning ha fatto retromarcia per questioni economiche. Dopo il dietro front dei Nerazzurri, Massimiliano Mirabelli si è subito reinserito nella corsa insieme alla Juventus. L'offerta dei bianconeri era di quelle importanti, 50 milioni per Pellegri, Salcedo e Fabio Rossi, però Enrico Preziosi ha preferito rifiutare per non perderli tutti e tre in un solo colpo. Allora i rossoneri, nell'ultimo giorno di mercato, come raccontano le ultime news di Calcio-mercato Milan, hanno provato a prendere soltanto Pellegri con un'offerta da 3 milioni per il prestito più un successivo pacchetto di 10. Calcio-mercato Milan, le parole di Pellegri e Salcedo di fronte a questa proposta il Genoa ha messo tutto in stand-by. Ma le dichiarazioni di Giuseppe Riso, giovedì sera, dopo aver incontrato Mirabelli, fanno ben sperare. Intanto il giovane attaccante, intervistato da il secolo XIX, ha reso noto il suo amore per il rosso-blu. Il grifone ha trasformato il mio sogno in realtà, mi ha trasformato da bambino a calciatore. Resterà sempre al centro dei miei pensieri, nel mio cuore. Il bomber sembra destinato a lasciare la Liguria nei prossimi anni viste le sue potenzialità. Ma per ora non pensa al futuro? Io oggi sono totalmente del Genoa, e se qualcuno mi cerca io lo vivo, come uno stimolo a far meglio. Ho capito che devo pensare a dare il massimo, senza pensare ad altro. Pellegri ha anche parlato del suo compagno di squadra e amico di sempre Salcedo. Ci conosciamo da quando siamo bambini, siamo due ottimi compagni di squadra, due grandi amici. Siamo molto legati. Anche se lui è più piccolo. Di otto mesi. Lui si ispira a Neymar, è il suo idolo. Da lui prenderei l'astuzia nel gioco. E la velocità che ha, la rapidità. A proposito di Salcedo. Il secolo XIX ha intervistato pure lui sia sul suo futuro che sul suo amico Pellegri. In merito al primo tema, l'esterno si è così espresso. Abbiamo letto di qualche interessamento di mercato. Ma io voglio dire che oggi siamo del Genoa, e vogliamo impegnarci fino in fondo, vivere il nostro sogno con la maglia del Genoa. Il resto, è solo un incoraggiamento a impegnarsi di Piaun con accento grave. Poi l'ingombrante paragone. Pellegri è un animale, un animale come Ibrahimovic, uguale. Imparerà anche a fare la mossa dello scorpione. Prenderei il suo fisico, e la sua cattiveria.